La sostenibilità in viticoltura è quell'insieme di pratiche agronomiche sopportate dalla scienza ma anche di tecnologia che ci permette di guardare all'ambiente e alla sua salvaguardia in maniera sempre più incisiva. Queste sono pratiche che vengono ormai sottolineate e richieste non soltanto dai consumatori finali ma da tutta la società che circonda i nostri vigneti, le nostre aziende ma gli stessi produttori che ne fanno un patrimonio e una necessità e un'esigenza. Su queste cose, su queste pratiche siamo legati a quelle che sono la lotta biologica, la lotta integrata, tutta una serie di disciplinari ma di tecniche che ormai sono patrimonio acquisito degli stessi agricoltori. Grande sensibilità la stiamo anche manifestando nei confronti degli insetti utili con tecniche ormai diffuse su tutta la nostra azienda che permettono il minor numero di trattamenti, soprattutto quegli insetticidi nei vigneti. Anche le nostre cantine cooperative sono sensibili e attente nel poter programmare e sviluppare questi temi sulla sostenibilità con i propri associati.